Buonasera, ben ritrovati in Piemonte a Novara la situazione Covid si mantiene stabile sia per quanto riguarda i contagi sia sul fronte ricoveri. Non ci sono novità da segnalare, nessuna criticità nelle ultime 24 ore e tanto per dare qualche numero a Novara i ricoverati sono 14, proprio come ieri di questi 14, 7 sono in terapia subintensiva e 7 in malattie infettive. Nessuna criticità a parte la morte di un uomo del 1931, un 92enne, un episodio che è avvenuto nelle ultime 24 ore, ma come dicevamo a parte questo niente da segnalare. La campagna vaccinale prosegue per la somministrazione della quarta e quinta dose del vaccino ai piemontesi che la devono ricevere. E a proposito di salute parliamo delle novità per la città della salute di Novara per il nuovo ospedale, novità che sono emerse proprio nel corso degli ultimi giorni. Il ministro della salute Schillaccia ha fermato nei giorni scorsi l'atto dirigenziale che ha finalmente sbloccato i 420 milioni per la realizzazione della città della salute e della scienza di Novara. Si è aggiunta una pietra miliare decisiva al lungo percorso che parte dal 2001, quando l'IRES Piemonte constatò che non era possibile ristrutturare l'ospedale maggiore della carità, ma che era necessario costruirne uno nuovo. Avviata la procedura nel 2007 dalla regione Piemonte, nel 2009 l'azienda ospedaliera universitaria e l'Università del Piemonte Orientale approvavano il progetto preliminare dell'intervento che dopo mille pareri acquisiti e molti ostacoli si trasformava nel gennaio 2019 nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per un valore di 330 milioni, riadeguato nel 2021 con la richiesta di altri cento. Il ministro Schillaci ha tolto ogni riserva e la posa della prima pietra è imminente. Il rettore dell'Università Giancarlo Avanzi e il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria maggiore della carità Gianfranco Zulian hanno accolto con grande soddisfazione la notizia. È tutto pronto per cominciare quindi con l'emissione del bando di gara che avverrà entro il mese di febbraio e che permetterà di selezionare l'azienda che dovrà costruire la città della salute e della scienza di Novara. L'aggiudicazione dei lavori potrebbe arrivare entro la fine del 2023 riprendendo quel cammino che si era interrotto nel 2021 e rispettando il cronoprogramma che dovrebbe portare alla conclusione dei lavori nell'arco di tre o quattro anni. Voltiamo pagina, andiamo a Roma dove questa mattina Poste Italiane ha presentato le novità che verranno realizzate con i fondi del PNRR ai sindaci del paese. Quasi 4.000 gli amministratori locali presenti a Roma e tra questi una delegazione di oltre 200 sindaci piemontesi. Le interviste. Polis, importante iniziativa di Poste che incontra i sindaci italiani come tre anni fa nel 2019, un momento di confronto nel quale vengono presentate le novità, un accesso più facile, più diretto agli uffici postali per i disabili, colonnine per la ricarica elettrica fuori da 5.000 uffici postali italiani e poi ovviamente una presenza più capillare sul territorio, un'attenzione maggiore alle aree marginali e montane. Questo è un progetto importantissimo che mira a rivoluzionare la vita nei comuni sotto i 15.000 abitanti, nei comuni più piccoli, quelli solitamente abbandonati dalle grandi realtà. Grazie a questo progetto ha accorciato la distanza tra i cittadini e le amministrazioni, sia quelle centrali che quelle territoriali. Gli uffici postali hanno dei veri e propri hub dei servizi e questo sarà davvero una rivoluzione digitale per il terzo millennio e per tutti i cittadini delle comunità solitamente meno considerate. Che cosa succederà grazie a questo progetto e quanti sono i comuni piemontesi coinvolti? Il Piemonte sarà una delle regioni chiaramente più coinvolte, più di 1.000 comuni, quasi 1.100 riceveranno questo importantissimo investimento attraverso il quale negli uffici postali sarà possibile erogare diversi servizi, come per esempio stampare certificati, fare prenotazioni di documenti pubblici come passaporto, carte d'identità e tante altre cose. È un momento assolutamente importante che dobbiamo viverlo in questo modo, dal Piemonte c'è stata un'ottima affluenza perché sono oltre 200 i colleghi che sono scesi a Roma per ascoltare quello che Posti Italiani sostanzialmente tradurrà in una proposta grazie ai fondi del PNNR per un ammodernamento, oltre che dei suoi uffici postali, quindi un punto di vista diciamo fisico, comunque un ammodernamento anche mentale del Paese e degli uffici postali. Poste ha l'onore e l'onere di assistere anche una parte della popolazione che non ha vissuto l'evoluzione informatica, però non può essere tagliata fuori da questo e quindi deve prendersene carico. I comuni accompagneranno Posti in questo per quello che naturalmente i comuni possono fare insieme a loro, però insieme possiamo essere un'ottima squadra. Poste ha questa fortuna di essere capillare su tutto il territorio nazionale, di avere razionalizzato molto in questi ultimi anni, ma di avere anche in programma un potenziamento degli sportelli che sono rimasti, un adeguamento, una modernizzazione importante anche con i fondi del PNNR. Voi sindaci, i problemi degli uffici postali, soprattutto nelle aree marginali, vi avete segnalati più volte. Dobbiamo dire che in parte l'abbiamo risolti già cinque anni fa, quando il Presidente Conte aveva garantito che non ci sarebbe mai stata la chiusura totale degli uffici. C'è stata una riduzione del 50%, ma che nei comuni piccoli come i nostri tutto sommato può anche andare bene, perché poi i numeri sono tali che anche gestiti al 50% il servizio viene garantito. La cosa che ci terremo a fare, perché ho già sentito altri sindaci, i miei colleghi, quello di mettere in tutti i paesi piccoli il postamat, che è importante perché soprattutto le persone anziane a un certo punto si fidano più delle poste che delle banche. Soprattutto l'idea è quella di poter implementare i servizi delle poste con quelli dei comuni e questa è una proposta interessante che sarà utile approfondire per capire come semplificare la vita sia all'organizzazione dei nostri uffici sia ai cittadini che hanno bisogno di servizi che possono essere soddisfatti sia attraverso il comune sia attraverso le poste. Voltiamo pagina e parliamo dell'iniziativa Metti il Turbo al tuo negozio. Sentiamo. Le crisi che si sono verificate in questi anni, oltre alla forte spinta sull'innovazione digitale, hanno modificato in modo radicale il settore del commercio e anche i piccoli negozi per continuare ad essere competitivi e mantenere livelli adeguati di redditività, devono fare conti con un mercato che è cambiato profondamente e con l'esigenza di introdurre modalità di gestione economica finanziaria più accurate. Ed ecco che per aiutare le imprese a innovarsi e acquisire nuove competenze, CNA Piemonte Nord ha organizzato un percorso di formazione gratuita dal titolo Metti il Turbo al tuo negozio, composto da un ciclo di quattro seminari aperto a tutte le imprese del commercio che vogliono cogliere questa opportunità. Prossimo appuntamento, primo febbraio, come entrare in banca ed uscirne vivi, informazioni pratiche di sopravvivenza. Obbligatoria l'iscrizione per l'incontro che si terrà nella sala consigliare al Comune di Cameri dalle 21 alle 23. L'iniziativa è rivolta a tutti i commercianti, non solo cameresi. Info mpedrini-cgs-cna.it Andiamo a Vercelli dove i carabinieri hanno presentato il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e hanno evidenziato l'enorme lavoro svolto sul territorio. Intensa attività dei carabinieri di Vercelli nel 2022. Al comando del tenente colonnello Walter Cappelli, l'arma vercellese si è dedicata alla prevenzione e repressione dei reati, presidiando il territorio con un numero elevato di pattuglie. I servizi esterni realizzati sono stati un quarto in più rispetto all'anno precedente, raggiungendo la quota di ben 63 mila ore di attività di sorveglianza e prevenzione sulle strade della provincia. Particolare attenzione è stata riservata alle zone della Movida con servizi mirati, ma anche in tutte le situazioni dove vi fossero manifestazioni, fiere e mercati. E non sono mancati i carabinieri di quartiere sempre molto amati dalla gente. I reati totali rilevati sono stati circa 2.400 in linea con il 2021. 800 le persone denunciate, 59 arrestate in flagranza, mentre gli arresti in esecuzione a ordini di custodia cautelare o di carcerazione a seguito di delitti pregressi sono stati 86. Il bilancio fa rilevare una diminuzione delle rapine messe in atto e un lieve calo pari al 3,4% anche delle truffe. In particolar modo si è posta attenzione contro le truffe agli anziani con intensa attività di sensibilizzazione. Stessa sensibilizzazione che ha interessato anche i giovani e gli adolescenti incontrati dai carabinieri nelle sedi scolastiche dove hanno parlato loro di legalità e di corretto uso dei social, oltre che di tante altre materie che interessano quella fascia d'età. Preoccupante il fronte dei maltrattamenti in famiglia e degli atti persecutori, entrambi in crescita. Fortunatamente sono aumentate però anche le denunce che hanno permesso all'autorità giudiziaria di assicurare alla giustizia 35 maltrattanti e 22 responsabili di atti persecutori. Intensi controlli sulle strade, controllati ben 26 mila veicoli in transito, contestati 46 casi di guida in stato di prezza per alcol, 13 in stato di alterazione per stupefacenti e 42 episodi di guida senza patente. A Gattinara riparte il progetto, ti do una mano ma servono fondi e l'amministrazione comunale lancia un appello. Il comune di Gattinara lancia una campagna di raccolta fondi per il progetto Ti prendo per mano, servizio che da una decina d'anni aiuta chi si trova in difficoltà economica. Sono tanti coloro che ne beneficiano attualmente una quindicina, ma anche coloro che negli anni ne hanno beneficiato ricevendo la possibilità di aiutare la comunità impegnandosi in lavoro di manutenzione, servizio mensa, nonno vigile, in cambio di uno stipendio che permette loro di far fronte alle situazioni difficili che la vita pone davanti, per lo più derivanti dalla perdita di lavoro, con conseguente impossibilità a far fronte alla quotidianità, ossia figli da mantenere, anziani da curare, bollette da pagare e tanto altro. Il vice sindaco Daniele Baglione, che aveva ideato il progetto quando era primo cittadino, sottolinea che non c'è mai stato un budget per aiutare queste persone, ma che si è sempre sostenuto il progetto grazie alla generosità dei cittadini, donazioni, offerte e anche il 5 per mille che viene destinato a Ti prendo per mano. Ci sono poi le grandi realtà cittadine che non si tirano indietro, come la lavazza o le fondazioni. Oggi serve una mano in più e chi volesse fare qualcosa, dice Baglione può rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico del comune e lì gli verranno comunicate le modalità. Torniamo a Novara e parliamo del contest Gentilezza. Costruiamo Gentilezza è davvero un percorso quotidiano. Sì, certo, assolutamente quotidiano. È partito questo 2023 che ci vede protagonisti come capitale di Costruiamo Gentilezza. Novara ne è molto orgogliosa. Siamo ancora più orgogliosi perché i protagonisti come detto dall'inizio sono proprio i nostri bambini all'interno delle scuole, all'interno delle famiglie e all'interno di tutti i luoghi dove vanno a vivere, a giocare e a poter praticare la gentilezza che hanno inteso loro. Ed è una gentilezza che nasce dal cuore e si può trasformare nella famosa pratica che tanto decantiamo e che tanto tra virgolette pubblicizziamo. La pratica può essere un piccolo gesto verso un compagno che può avere bisogno ma può trasformarsi anche in un qualcosa che si può vedere e può essere utilizzato dalla comunità stessa come eventuali panchine rimesse in sesto, la pulizia di aiuole, la creazione di altri luoghi, altri punti. Ma non dico tutto perché ci saranno sorprese durante il corso di tutto questo lungo anno che ci attende. Speriamo Gentile in cui costruiremo tanto. Il primo importante contesto abbiamo voluto iniziare proprio il 20 gennaio contestualmente con i festeggiamenti del nostro santo patrono San Gaudenzio. A Novara sono festeggiamenti sempre molto sentiti. La cupola è stata la nostra prima protagonista, ha aperto questo anno, è stata per due giorni viola, meravigliosa, stupefacente, nel colore della gentilezza, il rosso più il blu. E proprio il 20 di gennaio inizieremo questo contesto che abbiamo chiamato le preghiere di gentilezza. Preghiere di gentilezza sono momenti piccoli, spot di riflessione sempre che partono dai bambini, ma in questo caso dai bambini di tutta Italia. Sarà un contest nazionale e la cosa ancora più bella è che arriveranno scritte queste preghiere, quindi rimarranno. I momenti di profondità dell'animo verso un qualcosa che riguarda tutta l'umanità è anche bello forse averli in un piccolo archivio perché ogni tanto andare a rileggerli possono anche essere d'aiuto. Lo sport, il calcio, la Provercelli si è giudicata il derby contro il Novara battendo gli azzurri per 1-0. Il sentitissimo derby tra Novara e Provercelli va alla Pro. Gli azzurri in inferiorità numerica dall'82esimo perdono di misura 0-1. Si decide tutto nel finale. All'86esimo Guindo al volo batte Pissardo portando i suoi in vantaggio. Secondo me abbiamo dimostrato di aver capito cosa avevamo fatto sabato perché sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della terminazione la squadra comunque ha reagito. Ha fatto una partita tosta, non abbiamo lasciato spazio alla Provercelli, non mi vengono in mente occasioni importanti se non nel colpo di testa ma sul calcio inattivo. Dispiace perché poi una sconfitta ridimensiona l'atteggiamento e la partita che hanno fatto i ragazzi. Poi bisogna migliorare, bisogna essere un po' più veloci. Soprattutto nel primo tempo eravamo lenti. Nel secondo tempo abbiamo più velocizzato la manovra. In effetti loro sono andati in difficoltà. Ci sono trompisi, hanno fatto quello che avevamo chiesto. È normale che quando si vince magari è molto più facile valutarli. Però sotto l'atteggiamento a me mi interessa in questo momento recuperare la testa dei ragazzi. Questa è la strada che comunque è giusta perché sotto questo aspetto hanno dato seguito alla partita che abbiamo fatto sabato. Però è normale che bisogna migliorare perché è un peccato perdere queste partite per un episodio così. È un peccato aver preso una punizione con palla nostra perché abbiamo sbagliato un fraseggio che magari potevamo evitarci. Però non è una questione di ammunizione. A volte bisogna anche capire il momento della partita. Io mi aspetto soprattutto che i ragazzi reagiscono a questo passo falso perché prima di tutto dobbiamo pensare a quelli che abbiamo. Poi se arriverà qualcuno o se andrà via qualcuno lo valuteremo quando succederà. Restiamo in tema e ascoltiamo il centrocampista azzurro Patrizio Masini. Ci dispiace molto, specie per i tifosi che oggi erano veramente in tanti allo stadio. Dispiace aver perso così perché penso sia stato l'unico tiro in porta che hanno fatto loro a parte un colpo di testa. Specie su palla inattiva. Per fortuna giochiamo già mercoledì una parita tosta e possiamo subito rifarci. Non ho avuto occasione di andare al tiro in queste ultime due partite però sono sicuro che arriveranno. Che cosa vuoi dire ai tifosi che vi hanno seguito quest'oggi? Ringraziarli per il tifo è normale il dispiacere e speriamo appunto già dalla prossima di regalare nuove soddisfazioni. È un giocatore normale che voglia giocare tutti i minuti però sono scelte del mister e quindi li accetto molto serenamente. Era giusto così anche perché ho compagni di reparto molto forti. Continuiamo a parlare di calcio presentato ufficialmente nei giorni scorsi il neo acquisto del Novara Football Club. Il difensore Julian Illanes. È stata una trattativa sinceramente piuttosto facile. Si è risolta in tre giorni e quando ho ricevuto la chiamata di un'ora volevo venire qua quindi da parte mia c'è stata la predisposizione. mi si è risolto in poco tempo. Poi dopo sì c'è stato il viaggio a nove ore di macchina per arrivare qua. Sono stati due o tre giorni un po' lunghi ma contento, contento per l'area solida, contento per la vittoria e per averle dato una mano al gruppo. Quanto è inciso Marchionni? Sì è stato lui a chiamarmi. Mi ha chiamato lui e mi ha convinto praticamente lui di venire qua quindi mi è piaciuto tanto quello che mi ha parlato lui al telefono quando mi ha chiamato e l'ho dato subito l'ok e come ti ho detto è una cosa che si è risolta in due giorni. Quindi volevo venire qua, volevo essere qua e voglio dare il massimo. Abbiamo giocato contro con il mister quando lui stava a Foggia. Io stavo ad Avellino. A Avellino lo conosco già. Sono stato là tre volte. Una piazza che non soffro sinceramente perché ormai conosco un po' le dinamiche dei tifosi e della società. Quindi è un ambiente che conosco. Poi qua magari sarà più tranquillo ma uno la vive sempre dal stesso modo. Io sono uno che le piace vivere il calcio in un certo modo e non mi interessa tanto dell'ambiente. Sennò vado sempre avanti per la mia strada. È tutto. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di sera.